Buon pomeriggio ragazzi, ciao a tutti ragazzi, e credo che da un bel po' che non vedete la mia parte, da un bel po' che non carico un video, da un bel po' che non carico più nulla Non so neanche l'argomento di che cosa dire, allora, intanto, beh, non so, mi scuso con le persone che non sto più seguendo, che non sto guardando più i loro video e loro, io sto vedendo che stanno facendo la stessa cosa, come non ti sanno, io però, diciamo, sto passando molto 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 negativo, un periodo negativo molto Il negativo forse è un po' terribile, e questo terribile periodo è dovuto, diciamo, che è successo una cosa alla mia piccola nipotina di 5 anni che in pratica si è gestionata molto per bene il 31 gennaio, per colpa di una bossa elettrica, che è scoppiata di sopra e si è gestionata Cioè, per questo non ho proprio voglia di caricare i video, non ho proprio voglia di nulla Ora, ci sarà tutto lunedì che si deve fare un'operazione al Cannizzaro di Catania Beh, vabbè, grazie a Dio, è un'operazione di routine, come hanno detto i medici però, sono stati molto, stanno molto in ansia di questo fatto, non vedo l'ora, si faccia lunedì e tutto finisca vediamo questo maledetto incubo deve finire, speriamo che non succeda più nulla perché, veramente, io vado matto per i miei nipoti, ce ne ho tre e sono pazzo per tutte e tre Già io dico che una operazione, diciamo, è pesante Per noi grandi, quando ci ustoniamo, pensa a una bambina di cinque anni che sostiona quello che ha potuto soffrire quella nipotina, mia nipotina, questi giorni Io conto di ritornare in piena delle mie forze al più presto a più presto vorrei ritornare a fare dei bei video vorrei ritornare a fare le mie recensioni, recensioni sui film parlare della mia scuola del cuore da iur ma per adesso, giustamente, non mi posso mettere, non mi posso prendere questo lusso di fare video che non ho proprio tempo e per quelli che si sono tolti il mio canale, poco me ne importa sono cose più importanti nella vita che uno si mette a fare il cascamorto, il cretino, togliendosi dai canali quando mi riguarda, non sto seguendo più nessuno perché purtroppo ho avuto quel piccolo problema però accanto mio non sto seguendo più nessuno però non mi sono tolto le iscrizioni con nessuno sono rimasto aperto con tutti i canali, con tutti voi poi quando tutto questo incubo sarà finito ritornerò a guardare i vostri video ritornerò a mettere like digitale se mi piacciono i video commentare i vostri video però non è giusto come vi state comportando neanche più mi state seguendo neanche più un like, neanche più un commento mi state facendo nei video ecco ora vi ho detto di motivo buonasera a tutti e buon sabato ciao ragazzi ciao